Domenica scorsa, 14 maggio, la Basilica di San Petronio ha accolto il concerto per Ezio Bosso, nel terzo anniversario dalla sua scomparsa. Sul palcoscenico allestito in Basilica si esibita l'orchestra d'archi Buxus Consort Strings, affiancata dalla violinista solista Anna Tifu. L'evento è nato da un'idea dell'arcivescovo in collaborazione con Anna Maria Gallizio, già assistente personale del musicista. Comune di Bologna, Emergency, Buxus Consort Festival e con il contributo della Fondazione Carisbo. È un'occasione particolarissima perché ricorderemo tutti il nostro carissimo Ezio Bosso con il quale ho avuto l'onore, la gioia e il piacere di collaborare diverse volte e quindi suonare questo concerto tra l'altro nella città che lui amava perché viveva qui a Bologna è per me un'emozione enorme, tra l'altro vedo che c'è la chiesa gremita e quindi siamo tutti super emozionati di questo concerto ed è un evento molto particolare che mi sta proprio a cuore. Poi il suo concerto è un concerto meraviglioso e ho tantissimi ricordi perché l'ho sempre eseguito diretta da Ezio. È un ricordo di un grande maestro, di uno che ha spiegato la musica, l'ha vissuta, ha appassionato sulla musica e che anche ci aiuta a capire che la vita è un'orchestra.